Buongiorno ragazzi, eccoci qua per il post partita di Sassuolo Genoa, match terminato con il risultato di 2-1 in favore dei Neroverdi. Allora che dire, una brutta sconfitta che ci fa rimanere sul fondo della classifica, in penultima posizione, con dietro solamente il Crotone. E niente, che dire, allora esaminando un po' la partita, direi che in primo tempo tutto sommato la squadra non ha giocato male. Il Sassuolo ha avuto sicuramente più il possesso di palla, così come per tutto il match, ma questa è proprio una caratteristica comunque del Sassuolo che impone il gioco contro quasi tutte le squadre avversarie, quindi ovviamente ha imposto il gioco anche contro di noi. Nonostante ciò, comunque nel primo tempo siamo stati abbastanza bravi a ripartire con le varie ripartenze. Peccato per l'occasione di Scamacca, in cui appunto la palla è andata contro il palo. E anche quella poi successivamente con Schumaro dopo un errore della difesa appunto del Sassuolo, anche lì la palla è uscita di poco. Però poi successivamente nel secondo tempo, perlomeno nei primi dieci minuti del secondo tempo, il Sassuolo ha pressato un po' di più e appunto tramite questo pressing su una palla persa di Zayc, un complice anche un ottimo lancio di Locatelli e un grande stop di Bogat, il Sassuolo appunto si è portato in vantaggio. A quel punto Ballardini ha provato a fare dei cambi con l'inserimento comunque di piazza, siamo passati un po' ad essere un po' più offensivi e comunque i risultati si sono visti, anche l'inserimento di Ghiglione sulla fascia, qualche bel cross per lui e su uno di questi cross, colpo di testa di Shumarodov che ha appunto regalato il pari. Poi ci sono stati ancora direi 5-10 minuti in cui la squadra ha pressato comunque il Sassuolo, avevamo leggermente un po' più il pallino del gioco. Purtroppo poi dal settantesimo in poi il Sassuolo ha ripreso di nuovo il controllo del campo e appunto il subentrato Raspadori ha segnato punto di testa e ha regalato la vittoria al Sassuolo. Sul gol appunto del 2-1 diciamo che la nostra difesa non era molto ben posizionata, poi bel gesto tecnico ovviamente di Raspadori, bel colpo di testa come quello appunto di Shumarodov per il pareggio e niente, poi negli ultimi minuti abbiamo un po' provato ad attaccare, soprattutto verso la fine però senza mai creare un'occasione vera e propria, gol di destro in fuori gioco ma si era visto anche a così occhio nudo che era partito in posizione irregolare chiamando la palla a crescita ma è stata brava la difesa a salire con i tempi giusti. Per quanto riguarda la prestazione in generale non mi sento di dire che sia una cattiva prestazione, alla fine il punto ci poteva stare, staremo parlando di tutt'altro in questo momento. Il fatto è che purtroppo questa sconfitta ci fa rimanere sempre appunto penultimi in classifica in una situazione molto delicata. La prossima partita sarà con il Bologna che si è fatto recuperare al novantesimo e oltre dall'Udinese e niente, quella sarà una partita importante perché diciamo che se non si vincerà quello, comunque se non si muoverà la classifica con queste sfide appunto in casa, poi tutto diventa più complicato. Per quanto riguarda i singoli, sicuramente migliori in campo, a mio parere oltre al gol Shumarodov. Leggo già tante critiche a Scamacca ma secondo me non ha fatto così male oggi. Alla fine lì è stato sfortunato con il palo, qualche altra buona palla l'ha tenuta su, poi certo se vogliamo il giocatore da 12-15 gol Scamacca non è quel tipo di giocatore lì, molto probabilmente è alla fine, vuol dire che se uno pensa veramente che Scamacca sia fuori condizione dal punto di vista mentale oppure scarso tecnicamente, alla fine la colpa allora a quel punto torna ad essere della società. Però lì appunto è un altro discorso che io farei più per altri giocatori sinceramente che per Scamacca. E niente, quindi questo è tutto diciamo, quindi in generale una sconfitta che non ci voleva, però dai cerchiamo di vedere qualcosa di buono all'interno della prestazione, comunque si è perso quasi all'ultimo, negli ultimi appunto 10 minuti, peccato, però... niente, è ormai andata così, ora testa a Bologna e lì appunto sarà importante cercare a quel punto, a questo punto di vincere perché servono appunto punti per rimuovere la classifica. E niente, quindi con questo concludo, un saluto a tutti e niente, sempre Forza Genoa, ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!